e ciao ragazzi bentornati sul canale oggi sono un fantastico glamping qua in provincia di Viterbo sono diciamo al confine tra la Tuscia e la Maremma come se può consono dire massa Maremma qua per farvi vedere questo bellissimo glamping che era da tanto tempo che vi volevo far vedere lo conosco già da un bel po' però ora è arrivato il momento di farvelo conoscere siamo a Terme di Pulci a Riminino in provincia di Viterbo un posto davvero fantastico nel mezzo della natura ed è un posto molto particolare perché ospita questo glamping resort fatto di queste bellissime tende che ricordano un po' le tende che potete trovare nelle varie loggie in Africa o in Sudafrica, in Namibia io l'ho vista un po' da quelle parti là e qui hanno oltre a questo glamping anche una parte diciamo di resort e poi una parte adibita alle terme e una parte adibita anche alle piscine quindi un glamping dove davvero vi potete rilassare in tutti i modi possibili ed immaginari naturalmente è un posto molto particolare altrimenti non ve ne parlerei il contesto qui è davvero molto particolare perché è la location in se stessa molto bella siamo davvero immersi nella natura e ci sono queste grandi tende perché sono veramente molto grandi la mia penso che sia la seconda più grande che oltre ad essere molto spaziosa all'interno e lo vedrete ha anche questa bellissima parte esterna come tutta anche una jacuzzi personale se non vi basta tutto questo potete andare nella parte più avanti della struttura dove sono presenti una bellissima piscina suddivisa in tre parti piscina termale e poi tutta una parte spa e benessere dove potete fare tutto quello che è diciamo il trattamento personale dal bagno turco alla sauna sala massaggi insomma veramente qua potete prendervi davvero cura di voi stessi quindi sono entrato adesso all'interno della bellissima tenda guardate un po' che bella molto molto ampia è composta da una prima parte ok che è l'ingresso molto molto vasto diciamo c'è dal divano le lampade uno specchio dietro di me una sorta di armadio da questa parte e nella parte frontale dell'ingresso della tenda si ha accesso anche a quella che è la parte esterna dove ero prima dove vi ho fatto vedere la piscina anche poi sulla destra della tenda quindi appena siete entrati sulla destra qui è dove si trova la camera dal letto guardate un po' tutto è diciamo le pareti sono tutte a tendaggio c'è poi un separé questo qui che credo sia cartongesso che fa da separé dalla sala quella che è la camera dal letto questa dove è questo bellissimo letto matrimoniale naturalmente essendo questa tenda fatta tutta di tendaggio quindi la coidentazione come potete immaginare non è eccezionale rispetto a una struttura di legno o una struttura proprio di cemento armato naturalmente quando qui la temperatura scende parecchio quindi magari ci si avvicina a 10 gradi è normale che sia necessario magari accendere una stufetta adesso che è maggio oggi è una giornata abbastanza bella ci saranno 24-25 gradi io credo che non ci sarà assolutamente bisogno di accedere una stufetta per scaldarsi però nel caso sia necessario c'è anche quella e mi dicevano che ci sono alcuni ospiti che magari richiedono la presenza e quindi è giusto che ci sia andando invece nella parte a sinistra del ingresso della tenda si accede a quella che è la zona bagno sempre tutta fatta di tendaggio c'è questa parte qui che è la doccia poi c'è la parte del water e del bidet in quel lato lì gli asciugamani che vi servono anche per accedere alla parte spa e alla parte piscina e sono di un colore diverso dagli asciugamani che potete prendere nel resort perché vi servono appunto per differenziarvi che siete ospiti della parte glamping in questo lato qui c'è anche diciamo il lavabo vediamo se vi accendo la luce c'è anche il lavabo con la luce una sorta di specchio e in questa parte qui c'è questa finestra che io non ho ancora aperto che è naturalmente come sempre apribile dall'esterno quindi una cosa interessante di questo glamping in resort è diciamo che potete veramente stare a contatto con la natura però non rinunciando a nessun tipo di comfort perché qui veramente riuscite a avere tutto per le persone che si chiedono quanto costi prenotare una camera del genere questo varia un po' in base al periodo dell'anno insomma se è alta stagione bassa stagione se è weekend o meno solo per nottamento con colazione in una struttura del genere può variare da 230 fino a 300 euro a notte però vi garantisco che lo spazio è tanto molto più grande di una stanza normale di hotel come grandezza e naturalmente avete anche accesso alla piscina che vi farò vedere tra un po' tutti quelli che sono extra quindi al tipo di spa bagnaturco sauna massaggi quelli naturalmente sono extra della camera è presente anche un ristorante che vi farò vedere tra poco veramente dove si mangia una cucina locale proprio in questa zona qua del Viterbese molto molto bello con delle grandi vetrate ma lo vedrete tra un po' perché ne vale veramente la pena farvelo vedere il ristorante del glamping è un posto carino e raffinato non solo elegante per una cena di alto livello la possibilità di cenare all'interno del glamping è veramente molto apprezzata da tutti gli ospiti che ricercano la comodità di non dover uscire dalla struttura e godersi ogni attimo di relax che questa location soffrire anche al calare del sole qui verrà servita anche la colazione ottima abbondante e davvero molto ricercata insomma mi sono trovato davvero molto molto bene quindi ragazzi io sono di partenza da questa bellissima location spero che il video vi sia piaciuto sia stato interessante per voi naturalmente nella descrizione trovate tutti i riferimenti per poter notare o avere ulteriori informazioni di questo favoloso camping resort guardate che bello che è stamattina mi raccomando lasciate un like al video se vi è piaciuto particolarmente condividetelo con le persone a cui pensate possa essere utile noi ci vediamo molto molto presto in una nuova avventura sempre qua sul canale grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.